Ciao a tutti ragazzi e bentrovati su Informati Caffè da Tè. In questo video vi parlerò dell'alimentazione del computer, desktop ovviamente. Allora, lo strumento che alimenta il computer desktop non è altro che questo scatolino che sto inquadrando in questo momento. Ecco, dovete sapere che questa scatolina qui, oltre ad alimentare il nostro computer, in realtà trasforma anche la corrente, quindi si tratta di un trasformatore. Cosa succede? Praticamente la nostra corrente di casa sappiamo tutti che è una 220V. Bene, i computer, o la maggior parte dei computer, lavora a 12V, quindi questa scatolina qui non fa altro che, oltre ad alimentare il nostro computer, a convertire questa corrente a 220V la passa a 12V. In questo modo il computer evita di bruciarsi. Ovviamente, qualora voi dovreste sostituire l'alimentazione, dovete sempre smontare il vostro, perché ovviamente su ogni alimentatore che si rispetti ci sono delle caratteristiche ben precise, che sono segnate su questa tabella. Quindi tutti gli alimentatori che si rispettino devono avere una tabella come questa, che indica tutti i vari valori che servono per far alimentare il nostro computer. Per evitare di bruciarlo, o comunque di prenderlo troppo piccolo, e in quel caso non verrà alimentato bene, quindi di conseguenza non partirà. Andiamo più nel dettaglio. Allora, sulla parte posteriore dell'alimentatore troviamo questo connettore qui, che serve per la presa di corrente, quindi avremo un cavo che a un'estremità avrà questo tipo di aggancio, che avrà attaccato qui dietro, e dall'altra estremità la spina che va attaccata alla nostra presa a muro. In questo modo noi porteremo la corrente dalla nostra abitazione al nostro computer. Questo qui è un interruttore. Cosa serve? Allora, praticamente che succede? Se noi vogliamo staccare la corrente dal nostro computer, senza dover staccare la spina obbligatoriamente, o comunque staccare la corrente, possiamo semplicemente spostare questo interruttore su zero. In questo modo la corrente dal nostro computer verrà interrotta. E quindi noi potremmo metterci mani senza il rischio di scottature di corrente e via discorrendo. Se invece la mettiamo su uno, la corrente verrà avviata al computer e quindi di conseguenza il computer partirà e tutto il resto. E troveremo anche quattro fori, che sono uno, due, tre e quattro, che servono appunto per fissarlo con le viti al nostro case del computer. Andiamo nella parte anteriore. Nella parte anteriore troviamo questo groviglio di fili. Ecco, questi non sono altro che i fili che portano la corrente alle varie periferiche all'interno del nostro case o del nostro pc. Allora, ricordatevi sempre che ogni connettore di questi ha una guida ben precisa, quindi non potete sbagliare quando lo inserite. Basta solo controllare il verso giusto e inserirlo dentro gli apposti pin. In questo modo eviterete di far danni e comunque avrete la certezza che il vostro elementatore è collegato bene al vostro computer. Partiamo con i vari connettori. Allora, questo è quello principale che alimenta la scheda madre. Quindi è quello più grande, come potete vedere ci sono altri connettori ma sono tutti più piccoli. Questo è quello più grande ed è quello appunto che alimenta la scheda madre del vostro computer. Dovete stare sempre ben attenti alla guida, quindi avete questa levetta di riferimento che è inserita nell'apposita guida che troverete dall'altra estremità sulla scheda madre. Dopodiché abbiamo questo connettorino qui. Questo connettorino qui porta la 12 volte su un altro settore sempre della scheda madre. Bene, questo per quanto potrebbe sembrare una bazzecola è molto importante perché siccome capita spesso e volentieri che i computer si accendono o sembra che si accendono però poi non proiettano niente sui monitor o comunque i monitor restano neri. Bene, questo potrebbe essere dovuto a questo qui che praticamente non alimentando bene il secondo settore della scheda madre provoca il malfunzionamento di essa e quindi di conseguenza il computer partirà però non proietterà niente sul monitor e sembrerà che il computer non si accenda. Quindi se doveste riscontrare qualche problema del genere ricordatevi sempre di controllare questo connettorino qui. Gli altri sono molto più semplici. Abbiamo questo che come potete vedere ha una forma di L al suo interno quindi è sempre la classica guida di cui parlavo prima e serve per alimentare i lettori DVD o gli hard disk di ultima generazione. Questo qui è un connettore serralata e quindi di conseguenza potete attaccare un hard disk o un lettore serralata su questo tipo di connettore qui. Poi questo valimentatore qui è provisto anche di una porta di un connettore vecchio stampo cioè per gli hard disk IDE o per gli lettori IDE. Come potete vedere è differente, è arcato da un lato e dritto dall'altro quindi anche questo ha una guida quindi controllate sempre il verso prima di inserirlo nella vostra periferica. Dopodiché abbiamo quest'altro qui. Questo qui, anche questo provvisto di guida, ha uno scivolo al di sotto e nella parte superiore invece ha questo specie di dentino che serve appunto per indicarci come va inserito dentro la nostra periferica. Questo serve per alimentare il nostro lettore floppy anche se ad oggi non si usano più però questo qui ne è provvisto e quindi volendo potremmo anche inserirlo all'interno del computer. Gli altri connettori che voi vedete sparsi in giro o aggrovegliati nei fili non sono altro che delle integrazioni cioè voi dovete sapere che nel computer possiamo inserire più di un hard disk o più di un lettore quindi ovviamente gli alimentatori ci danno il permesso comunque sono già provvisti di questo tipo di problematiche quindi le case costruttrici provvedono a inserire dei connettori in più in modo tale che se noi vogliamo ampliare la memoria comunque inserire un'altra periferica all'interno del nostro computer siamo liberi di farlo perché i nostri alimentatori ci consentono appunto di farlo avendo degli spinotti in più da poter utilizzare. Quindi se voi aprite il case del vostro computer e troverete degli spinotti staccati non vi preoccupate ma sono delle integrazioni che si possono usare per altre periferiche. Per il momento è tutto vi ringrazio per la visione se il video vi piace mettete il mi piace spero che questi video vi siano utili che siano del vostro gradimento ci sentiamo alla prossima